Benvenuti in un nuovo video! Oggi siamo qui e questo penso sia il primo video ufficiale proprio di Natale Ci saranno tanti challenge, però questo è il primo video proprio ufficiale Quest'anno ho deciso di non aprire i calendari dell'avvento da sola Quindi ci sarà lei, ci accompagnerà in questa esperienza Però oggi siamo qui per non aprire un calendario dell'avvento Ma una box Quest'anno ho pure un po' di mystery box, però io ho deciso di acquistare dal sito di Allo Hacker Non so se si sta vedendo qualcosa, penso di sì Dal sito di Allo Hacker questa box Che non era un box, era proprio un sacchetto Però raga, prendo il sacchetto Allora, una punta Allo Hacker Allora, io l'ho pagato in totale 18 euro, 17 euro costava E un sacchetto da un chilo e mezzo Quindi fantastico Però sul sito il sacchetto era rosso Invece raga, guardate come è arrivato, bianco trasparente Infatti appena io ho aperto i prodotti Perché c'è appena aperto la scatola Perché c'erano altri prodotti che avevo acquistato Io ho detto, no non voglio vedere Infatti mamma poi si è occupata di togliere tutti i prodotti dalla bustina E metterli tutti nella scatola Quindi tu sei pronta? Sì Ok Andiamo ad aprire Aspettate ragazzi, apri da di qua Ok Golle Golle È arrivato subito Sì da qua Ma è stato sperato No, però non ho visto tutto Perché penso che ci sono affermati tutti sotto Ho visto solo una cosa Non mi sono soffermata Cioè non l'apriamo Non lo facciamo Ok Vado Vado prima io? Ok Quindi io la taglio allora Perché Ok vado da quello che ormai ho visto Ci diamo Ah, ci devo dire un'altra cosa In questo video ve li mostreremo solo Perché poi ci sarà una 24 ore che farò io Dove proveremo tutti questi prodottini I miei stili 24 ore Ok Che cos'è? Allora lo hacker quadratini in maccia Oddio santo E' vero Eccolo qua Dietro si aspetta in cinese Si abbina la tua maglia Comunque la Adoro Comunque ci sono tante cose Sarei venticolosi In sacchio Eh, non so In sacchio Comunque la vera veramente sul sito Gironzolando un po' Perché ho preso pure altri prodotti Che proveremo in quel video Ci sono veramente tanti prodotti Che qui in Italia non ci sono Non ci sono Ok Prego Sorellina Apri tu Aspetta una cosa Lo mostro io Lo hacker double choc Double choc Quindi doppio cioccolato Eccolo qua Io sono troppo curiosa Però Comunque questi Non mi sembra Che c'è Questo è fondente Sì Che fondente Ok Vado avanti Mi rompo tutto Io l'ho poi indecisa Li prendono Perché ho preso pure l'asta pericola Però questi secondo me meritano Ma io neanche questi ho visto Tu? Ma come l'ho mai visto? Tu ce l'ha proprio in dei suoi mercati No No Non l'ho mai visto Gardena Gardena mini Scoconut Così ce lo conserviamo Sì Vabbè Sì Dopo lo assaggiamo però Se ne esce un altro Sì ce lo mangiamo Lo sento Ok Vai Prego Se prenda la stessa Allora Ma perché è tutto dark? Sì dark Ma questo è cioccolato Questo mi sembra 60% che c'è Sia il cioccolato Che il biscotto Cioè quindi Non c'è la descrizione Non c'è la descrizione Ho chiesto Quelli là Babbini Lasciamo stare Però mi piace tanto Questa cosa Vai No tu devi andare Ah mi sono andata io Ok Questo mi ispira tantissimo Prove Cacao e latte Ovviamente Lo sento Mi piacciono Eccolo qua Io non vedrai Di registrare Domani il video Non avevo dubbi Vai Rebo Raga Chi si ricorda Chi si ricorda Mamma mia Questi sono una droga Domani me li posso finire Questa è la challenge Mangio per 24 ore Cibo rosa Ma che buoni Sono dei quadratini A raspberry e yogurt Ma questi Mamma mia Raga Questi sono Troppo Troppo buoni Andate a vedere Quella challenge Sono dei quadratini Sono dei quadratini Sono dei quadratini O tre o quattro euro Al mercato Quindi È un bel Assolutamente Sì sì Fatti pure mamma Quando ha messo tutti i prodotti All'interno Ha fatto Mamma mia Tutte queste cose Ok Tocca a te Ho pescato io No io ho pescato I quadratini Mi sono sapori Ok Ho saputo io Ok io vedo che Già sono scarsi di annero Che è sto coso Lo sai mi sembrano Tipo quelle cose tedesche Sandwich Sandwich al cioccolato Comunque sembro Waffer Songa Comunque Eccolo qua Comunque mi hai visto Anche se mi sembrano Tipo Quelli là che ci sono In Germania Che non ricordo Ma il marco Figuratevi se Mi mi divento Ok Posso andare io Prego prego Signorina Che schi La double Doppione Double Forse non si vede Non lo so Aspetta Lo vedo io Ok Raga comunque È sempre lo stesso Double chalk Eccolo qua Vabbè si sa Qualcosa doppione Ci deve stare Per forza Ok Devo pescare Io mi dimentico Perché forse Quando lo mostri E poi Senti che l'hai preso Tu Ok Vado io Dai Peschiamo qualcosa Di diverso Questo è enorme Vai Allora Allora Se vuoi collaborare con me Mandami tutti questi Madora Manco questi Ho mai visto Adoro Io lo sai Io ho provato Qualcosa del genere In un video Cheat day Lo recupero E ve lo metto giù Ma non ricordo Oddio Mi sono sporcata Il rossetto Ma non ricordo Quale Comunque raga Questo è il L'amore yogurt Se non proprio questo Ma raga Io li amo Sono troppo Troppo buoni No Adoro Io devo pescare Prego Prego Signorina Peschi pure Paura L'altro Ah no L'acqua 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 Eccolo Comunque Le schette Sono tutte In cinese Ok Fammi vedere Una cosa Ok Ok La scadenza No È stato fatto Il 15 aprile 2020 Scadenza 15 o Oggi Comunque Raga Questo sacchetto Prima costava 30 euro Quanto stavo Quasi 30 euro Una trentina di euro Quindi Adoro Se non qualcosa In più Anche Eccolo qua Questo al latte Dove Io non vedrai Che viene domani Mattina Vai Io devo Pescare Solita cosa Quindi Dark Semplice Semplice E veloce Prego Signorita Comunque La scasola È bellissima Halzenut Gardena Gardena Eccolo qui Che può Questo sarebbe La fine Sia la stessa cosa Cicciole Solo che è grande Ok Eccolo qua Che poi secondo me Lo sai che sarebbero Quelli là La versione grande Di quelli là Piccolini Nella confezione Secondo me Sì Eccolo qua Ok Ok No Tu Io Ah questa è l'altra Versione però Dark Mossi Fiorellini vicino Belli Sandwich Dark Oddio Stanno scarseggiando Tu dici Non è so I pacini sono un sacco E Uuuuh Questa è una Allora ragà Comunque io questi Io adoro 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 Non so quanti di voi Potevo fare Nessi gli ordini Del studio Del locker Fatemi sapere Poi Se è più ispirato Comunque questa qui Non l'ho mai Viste Una barretta di cioccolato Con all'interno il biscotto E poi cioccolato fondente Piccola qua Che poi sarebbe Cioè Ne abbiamo pescato Tutte mini tagli Questa è la Però come costo Di prodotti Il valore è morto Di più Sì raga Cioè Ma già quel pacco 4 euro Stanno Ne abbiamo presi Due Uno piccolo E uno grande Sì Cioè Sì 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 Prego No Tu Dai io No raga Scusatemi Però lo sapete Cosa mi piace I colori Cioè Muove di sti fiore Bello Barretta di cioccolato Al latte C'è Con il latte dentro Però Biscotto Questi secondo me Adoro Prendono Ve li provo domani Prego Signorita Oh Stava aperto Però Secondo me Mamma ha fatto un po' Un casino Quando Ce li senti No vabbè Ma io adoro Loacra E' anche il cioccolato fondente 60% Sì Ok E' triplo cioccolato fondente No vabbè Che buon po' Cioè Adoro Altro che Il calendario Dell'avvento Questo è molto più Succulente Io Dai tu Che cos'è? Oh la la Rosa Ma che Ma ragazzi Io i colori Sono importanti Sandwich Halzenut Che poi alla fine Questa è più sottile Però è più sottile Sì L'altro sono molto più doppio Ok Eccolo qua Eccolo qua Ma anche ho modo per provare Ma infatti sì E io ci farò un video Sì Prodotto Prego Signor Ricco Questo è come quello di Pima Gardena Gardena? Gardena Ok Halzenut Halzenut Salito di prima Prego Ma non ci sarà Cocco Io l'ho comprato No È uguale Ok Questo è uguale a quello di prima Ok Eccolo qua È lo stesso Io spero che si sta venendo qualcosa Sì Mi penso proprio di sì Ok Pisco io Ok Io poi voglio sapere pure Quali Ah sì Fatemi sapere Location E tutto È un'altra Però questo è più sottile Sandwich dark chocolate Questo già l'abbiamo piscato prima Cioè sì 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 La voglia Che hai detto Il caso del fiorelli Mh Fatto il fiorelli Ok 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 Rai Quanti prodotti Sono tanti A terra sì Ok Questo 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 è il classico No Sì Crema di cioccolato E il cacao Alla fine Creme di cioccolato E il cacao Questa è una confezione vecchia Perché me le ricordo Queste confezioni Io prima mi impazzivo Per i loafer Cioè loafer Eccoli qua Piscui Cioè da mente che sono i prodotti Ormai li sto poggiando sopra Facendo un macello Un altro di questo qua Penso che questo è stato il pezzo Proprio Sì Che è uscito di più Insieme alla barretta Ciccola Ok Dai Dai Che sovresistimento Però qua il cartone Si è aperto? No Stavo controllo Meglio Il primo a cocco Sì 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 Quest'altro qui piccolino Al cocco Sempre solita cosa Quindi Dò un po' Sì Sì Prego Aspetta io Solita Sì Che poi Abbiamo pure la cosa La barretta Che se tiene la barretta Eccolo qui Prego Buonasera Signorita Buonasera Eccolo qui Al cocco Che dopo Ce li pappiamo Che assaggiamo Insieme a voi Eccolo qui Io apro Un altro Bene Eccolo qua Comunque abbiamo cacciato tutti i pezzi forti Proprio Mamma Eccolo qua Solito Prego signora L'anno rimaste Le foto piccoline Sì Sì La bontà è una scelta La bontà è pura dire ragione Adesso Che sicura si è nominato Sì Dark Solito Apriamo Ma sono tutti uguali Dark Prego Non c'è nessuna altra cosa A favore Non c'è niente al cioccolato bianco Sì Bra Ah Solito Sandwich dark chocolate Solito Sento una cosa Grande Però la finora Mi danno la finora Aspetta Mi chiesto la finora Eh infatti No Solita cosa Perché come non si è la finora Eh Perché No No In Italia Numero uno non ci resta che assaggiare allora, Gardena mini scopola mai vissi qua comunque io ero rimasta water pensavo ci fosse la granella sopra no, lo vedete lo vedete prego va bene, va bene ma è tutto distrutto quanto mi riesce a ricoverarlo mamma mia buono spettacolare tutti i prodotti che ho fatto al cocco sono tutti buonissimi no, è buona proprio ok e qui niente raga mi dici ma che palle che è finito ne voglio aprire un'altra qual è quello? no, spoiler cioè raga abbiamo sfidante a noi un calendario dell'avvento enorme che pensate che non lo possiamo aprire neanche qua quindi dobbiamo cambiare location stiamo aspettando l'albero di natale mamma muoviti e niente raga adoro e quindi niente comunque consigliateci qualche box o qualcosa del genere su qualche signo anche nell'avvento particolare magari non con i soliti cosettine dentro che io le prendo e facciamole vedere insieme quindi niente noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao